Magenta è una comunità aperta, accogliente e tollerante e nessuno nega la libertà religiosa e di culto. Ma Magenta non è nelle condizioni di poter ospitare una moschea, men che meno, se di grandi dimensioni. A parlare sono i deputati della Lega Fabio Massimo Boniardi e Francesco Cecchetti. Continua a far discutere in città la contrapposizione tra le istanze della comunità islamica magentina, circa 1500 persone che da anni chiedono di avere un luogo di culto in cui poter pregare e l'amministrazione comunale. Basterebbe un pizzico di buonsenso, proseguono i deputati, per rendersi conto che una simile ipotesi richiederebbe necessariamente impegni economici e servizi supplementari da parte del Comune e quindi a spese dei cittadini. A maggior ragione risulta allora evidente che la presentazione alle prossime elezioni comunali della lista Nuova Italia, più islamica che civica, sia solo un tentativo per aggirare l'ostacolo per riuscire lì dove la loro associazione ha fallito. Il portavoce dell'Associazione Moschea, Abu Bakr, infatti ha annunciato nelle scorse settimane la nascita di un nuovo partito, Nuova Italia, appunto, dichiarando che non si era in presenza di un partito di islamici. Ma c'è chi non è d'accordo, come la consigliera regionale della Lega, Silvia Scurati, che commenta così le dichiarazioni fatte dal portavoce dell'Associazione Moschea, Abu Bakr. Dare dell'ignorante è un copione già collaudato per far credere che l'Islam sia religione, tollerante e pacifica. Sul suo profilo Facebook, infatti, il portavoce dell'Associazione Moschea, Abu Bakr, accusa la Lega, Silvia Scurati e il vice sindaco di Magenta, Simone Gelli, di aver volutamente fare inteso gli obiettivi alla base della nascita di una lista civica Nuova Italia. A parer ridicolo, conclude l'Ascurati, che ci accusi di aver interpretato le sue intenzioni di voler creare un partito islamico, quando in varie interviste su testate nazionali e locali parla chiaramente di richiesta proveniente dai musulmani di Magenta, con addirittura un sindaco musulmano.